mixing time television presenta comunicare il territorio comunicare il territorio non è più solamente una video enciclopedia da oggi comunicare il territorio è informazione quotidiana in tempo reale da 33 comuni e storia cultura attualità turismo arte e no gastronomia sport e spettacolo e ti racconta le storie e personaggi della tua città comunicare il territorio ti offre una panoramica quotidiana sulla provincia attraverso bellissime immagini e decine di programmi di intrattenimento interviste e rubriche di approfondimento comunicare il territorio è un obiettivo puntato quotidianamente sulla provincia di ratina e sui suoi protagonisti comunicare il territorio la provincia in primo piano stiamo arrivando